Difendi le basi, uccidi i boss ed elimina gli Spartan nemici per guadagnare punti. Conflitto in corso tra Covenant e Prometeici davanti alla nostra zona di spacco. Elimina tutti i nemici per mettere in sicurezza l'area. E' un nemico centrale. E' un nemico centrale. E' un nemico centrale. E' un nemico centrale. sono entrati nel campo di battaglia ecco I nemici hanno eliminato un elitto per azioni speciali. I nemici hanno eliminato un pochino. Requisizione confermata Elite in arrivo da portali per spazio alle rovine inolvate Requisizione confermata Requisizione confermata Requisizione confermata Requisizione confermata il nucleo nemico è vulnerabile requisizione confermata minaccia Covenant in arrivo il leader Covenant, Julem Dama, è stato individuato alla sorveglianza del tempio buon portatone requisizione confermata il nostro corso gratuito Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.